Da 30 anni i politici di tutti i colori dicono sempre la stessa cosa. Faremo, 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 cambieremo, cambieremo, cambieremo. Ora, per la prima volta qualcuno quella proposta è riuscito a metterla in campo. Il quesito è molto semplice, lo ha deciso la legge e la Corte di Cassazione. Ed è su questo che si vota. Non si vota sul governo, non si vota sulla legge elettorale, non si vota sui gufi. Il quesito è volete superare il bicameralismo paritario sì o no. Se si vota no, il bicameralismo paritario resta e i cittadini si terranno Camera e Senato unici in Europa, con la Romania, ad avere un sistema così arzigogolato. La riduzione del numero dei parlamentari si sarebbe potuta fare in altro modo, ma dopo 70 anni che tutti la promettono qualcuno l'ha fatta. Ed è una riduzione che comporta un contenimento dei costi. Per chi è abituato ai super stipendi, questo contenimento dei costi è piccolino, ma per chi dalla mattina alla sera cerca di trovare qualche milione di Euro per i fondi per la non autosufficienza, per gli interventi sulle pensioni minime, altro che pensioni d'oro, questi costi sono cruciali e fondamentali. Se si vota sì, si riducono i parlamentari e si riduce i costi delle istituzioni, se si vota no si viene così e a quel punto non troverete nessun parlamentare che vorrà in futuro cambiare, perché dirà i cittadini hanno scelto. Il quarto punto è il CNEL e su questo non perdo neanche una parola, un ente che ha costato un miliardo di Euro in 70 anni, l'equivalente di un miliardo di Euro e che ha prodotto zero leggi. Tutti d'accordo nel cambiarlo, nell'eliminarlo, finalmente si può fare. E il quinto è il potere delle regioni. Io credo che più chiarezza sul potere delle regioni cambierà la vita sulla sanità, sul turismo, sull'energia, sui rifiuti, sulla sicurezza ferroviaria, sui trasporti. Ecco perché io penso che sia fondamentale dire che un paese cambia. Professor Zagrebelsky ha tutta la mia stima, ma ci ha spiegato perché non si può cambiare, perché i problemi sono, ha detto lui, insolvibili. Io credo che chi fa politica abbia il dovere di cambiare per avere un governo più stabile, per avere qualcuno che vince le elezioni e non continuare come in Italia che alla fine vincono tutti e non perde mai nessuno, per avere delle leggi più semplici e per avere un Parlamento meno numeroso. Se si fa così, io credo che l'Italia che, vista da Palazzo Chigi, è il paese più bello del mondo e vista dai tavoli internazionali può correre al tempo della globalizzazione, si supera il passato. Io lo so che la nostalgia è un sentimento bellissimo, affascinante, affettuoso, però è finito il tempo della nostalgia se vogliamo correre nel mondo globale. Se vogliamo restare ai ricordi, faremo di questo paese soltanto un museo. Se vogliamo andare sul futuro, bisogna avere il coraggio di cambiare.